A giugno niente auto, lungo corso Vittorio Emanuele. Questa è la decisione del comune di Palermo, malgrado i cantieri che persistono lunghe l'arterie, che dovrebbero diventare, in base a questo provvedimento, dei possibili percorsi alternativi e che di fatto si trasformano in zone incubo per gli automobilisti. L'amministrazione va avanti decisa per la sua strada nel percorso di pedonalizzazione di diverse zone del centro storico, nonostante le continue proteste di commercianti e residenti. Anche ieri, in un lungo confronto nella sede della Biblioteca regionale, tra il sindaco Orlando, l'assessore alla mobilità Giusto Catania e le diverse associazioni che raggruppano i residenti, sembra che i toni siano stati accesi da entrambi le parti, senza la fine aver trovato un giusto compromesso. L'assessore Catania avrebbe rassicurato gli abitanti del centro storico, assicurando la presenza di autobus che colleghino l'arteria principale e la città con il parcheggio di via Basile, la zona del Foritalico, dove gli automobilisti potranno parcheggiare solo dopo essere terminati i lavori del collettore fognario. Promesse che non hanno per niente tranquillizzato i commercianti, costretti ad abbassare le saracinesche, a licenziare del personale, data la poca affluenza di turisti e cittadini nei paraggi, e residenti pronti ad abbandonare la zona, mettendo in vendita anche le loro abitazioni.